Siete pronte a una nuova avventura sulla neve tra le montagne più belle del mondo? Oggi una penna in valigia vi porta nel cadore per un'escursione insolita tra motoslitta, slittino e panorami mozzafiato. Il tutto all'ombra delle tre cime di Lavaredo. Siete carichi e allora si parte, ma prima tappa colazione! Buongiorno ragazzi, siamo quasi arrivati alle tre cime, ma prima abbiamo fatto un tappa qui a Domegge, dove c'è una delle nostre pasticcerie preferite. Nonostante il paese sia molto piccolo, questa pasticceria potrebbe sfamare un esercito ed è davvero il paradiso dei golosi. Una volta entrati da Davia abbiamo l'imbarazzo della scelta tra mille paste e anche proposte salate. Ma la nostra torta preferita è sicuramente lo strudel e io ne ho preso una fetta ai frutti di bosco. Deliziosa! E ora che abbiamo fatto il pieno di energie, risaliamo in macchina in direzione Trecime. La strada per raggiungerla è sempre molto panoramica e una volta passato il lago di Misurina, arriviamo al lago Antorno. Qui troverete un parcheggio dove lasciare l'auto, ma vi consiglio di arrivare presto perché i posti finiscono in fretta. E non sto parlando solo dei parcheggi ma anche della biglietteria perché l'escursione è prenotabile soltanto sul posto. Ma anche se troverete un po' d'attesa, non preoccupatevi perché davanti a voi avrete questo splendido panorama. Quello dietro di me è il lago Antorno, anche se non si direbbe perché è completamente ricoperto di neve. E adesso stiamo aspettando il nostro turno perché saliremo sulle Trecime con la motoslitta. Ecco il nostro mezzo che sta arrivando a prenderci e poi si parte. Potete scegliere se accomodarvi sulla maxi slitta e lasciarvi trainare oppure sedervi direttamente sul sedile del passeggero. Io ho voluto provare la vera emozione della motoslitta e vi posso assicurare che è davvero divertente. E poi il sedile è riscaldato. Il viaggio durerà circa un quarto d'ora e avete la possibilità di ammirare i panorami di mozzafiato sfrecciando tra metri di neve e boschi innevati. E una volta all'arrivo ci viene fornito uno slittino a testa. Eccoci arrivati! La motoslitta ci ha portato fino al rifugio a Oronzo. E adesso si scendono. Ma prima vi consiglio di prendervi il vostro tempo per poter ammirare il panorama dalle Trecime di Lavaredo. E anche dalla super terrazza del rifugio. E si parte! La discesa in slittino è davvero divertente e ci permette di tornare bambini sfrecciando sulla neve per chilometri e chilometri. Devo ammettere che scivolare a bordo di uno slittino su questa pista è una sensazione davvero particolare. Questa infatti in estate non è altro che una vera e propria strada che collega il lago intorno con le Trecime di Lavaredo e l'abbiamo percorsa più volte in auto, mentre in inverno chiude definitivamente per trasformarsi in una pista. La discesa è adatta a tutti, quindi si tratta di un'attività che potete svolgere tranquillamente insieme a tutta la famiglia. Dovrete solo prestare attenzione agli escursionisti e alle motoslitte. Ragazzi! È una figata! Ovviamente andate con abbigliamento caldo e impermeabile, meglio se una tuta da sci, e portatevi anche una maschera perché potrebbe andarvi la neve negli occhi. E cosa più importante, non dimenticatevi di godervi il panorama intorno a voi. Qualche sosta foto sarà d'obbligo. Com'è, Stefi? Bello, bello, ci piace! Continuiamo a scendere a tutta velocità per ben 5 chilometri, fino a raggiungere il nostro punto di arrivo. Ed eccoci arrivati alla malga! Adesso la raggiungiamo! Riconoscerlo è semplicissimo perché oltre alla malga vedrete anche una serie di slittini parcheggiati ed è proprio lì che dovrete lasciare anche il vostro. Una volta arrivati a questo punto, veniamo letteralmente travolti da una serie di profumini invitanti, ma purtroppo la malga è al completo e così dobbiamo continuare a camminare. Per tornare al lago intorno, infatti, ci aspetta una piacevole passeggiata in mezzo al bosco, dove attraversiamo anche un ponte con un torrente quasi ghiacciato. La passeggiata è davvero molto semplice, ma in alternativa potreste anche essere fortunati e trovare un passaggio. Per tornare si cammina in mezzo al bosco, ma noi siamo riusciti a fruoccare un passaggio in motoslitta. Noi avremmo camminato volentieri, ma sentite quanto è felice mio fratello di essere tornato in motoslitta. Grazie a questo passaggio ritorniamo in breve tempo al lago intorno e alla macchina, e ora, nuova tappa! Per concludere la giornata, infatti, ci spostiamo verso il vicino lago di Misurina, che in inverno si presenta totalmente nevato e anzi ci si può addirittura camminare sopra. Intorno al lago troverete diversi ristoranti e infatti ci fermiamo proprio in uno di questi per ricaricare le energie con una pausa pranzo. Infine, se viaggiate in famiglia, troverete anche un bel parco giochi per bambini. Se ti è piaciuto questo video, lasciami un like e iscriviti al canale per scoprire nuove destinazioni di viaggio!